Hai chiesto di firmarlo, un foglio di coerenza, di coalizione, lei l'ha firmato? Sì, ma non ho bisogno di firmare fogli per dire che col PD non governerò mai e quei 5 Stelle ci abbiamo provato, ma è finita come è finita. Certo, di mai ne abbiamo sentiti tanti ultimamente. Beh, ma quando io dico mai col PD, pratico il Michael PD. E a proposito di 5 Stelle, domani comincerò un giro dei quartieri, dei mercati, sarò in piazza Epiro, perché solo sabato abbiamo raccolto più di 10.000 firme per le dimissioni della Raggio e di cittadini romani. Ovviamente non facciamo firmare milanesi, torinesi o palermitani, però qua c'è un'emergenza cittadina che non ha precedenti negli anni passati, quindi ogni settimana girerò quartiere per quartiere, fino a che Virginia Raggi non lascerà il posto a qualcuno che i romani eleggeranno, sicuramente più in gamba di lei. Ma quindi mai più con il Movimento 5 Stelle? Abbiamo già dato, ci abbiamo provato in ogni maniera possibile, però è emersa la loro vera natura di sinistra, ormai sono un accosto dal PD. Quindi auguri, buona vita, buona fortuna!